Tentato omicidio e spaccio di droga, gli arresti domiciliari finiscono due giovani di Venafro e Isernia, operazione condotta dagli agenti della squadra mobile. Il centro-destra ha battuto a Palazzo Daimmo sulla questione del trasporto pubblico, le opposizioni insorgono e chiedono le dimissioni del governatore Toma. Altra richiesta di costruire a Pozzilli una nuova centrale a biometano, dopo quelle di Belmonte e Presenzano, sono forti le opposizioni dei cittadini. Con i successi nei rispettivi tornei di calcio a 5 e pallacanestro, c'entrano la Coppa Italia, il Cusmolise e la Magnolia, nel calcio Campobasso sale al quarto posto. Ben ritrovati gentili telespettatori, un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio nelle campagne di San Giuliano del Sannio. Le fiamme si sono sviluppate nel fienile di una casa alla periferia del paese. Il rogo è stato abbastanza esteso, sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco da Campobasso. I carabinieri della compagnia di Venafro hanno segnalato un tossicodipendente campano per possesso e uso personale di hashish. Il giovane è stato fermato da una pattuglia dell'arma nei pressi di Sesto Campano. Lo stupefacente era nascosto nelle tasche dei pantaloni per il giovane scattata alla segnalazione alla prefettura di Isernia. Proseguiamo con la cronaca, un'operazione della squadra mobile ha portato all'arresto di due pregiudicati responsabili rispettivamente del reato di spaccio e di tentato omicidio. Alle prime luci dell'alba la polizia di Isernia ha arrestato due pregiudicati, uno di Venafro, l'altro residente nel capologo Pentro, che ora dovranno rispondere davanti alla legge dei reati di tentato omicidio e spaccio di droga. Il primo caso riguarda un ragazzo del Venafrano che si è reso responsabile di una rissa in un locale notturno di Isernia, durante la quale ha lanciato un coetaneo dal ballatoio delle scale di sicurezza. Un episodio di violenza particolare, purtroppo gli episodi di violenza tra i giovani nei locali notturni si verificano e si ripetono. Questa volta siamo riusciti, grazie alla tempestività dell'intervento della polizia e quindi delle indagini della squadra mobile coordinate da questa procura, siamo riusciti in tempi brevi ad individuare il responsabile e quindi in tempi brevi a chiedere una misura cautelare che il GIP del Tribunale ha emesso e quindi poco dopo un mese abbiamo concluso la vicenda, le indagini. Il messaggio è diretto ai giovani che subiscono le violenze, denunciate perché le forze dell'ordine sono pronte ad intervenire, per intervenire, la procura è pronta per fare la propria parte. Il messaggio va anche ai violenti per dire che lì dove ci sono le denunce non esistono zone franche e tutto ciò che deve essere fatto viene fatto. Nel secondo caso invece la mobile ha sottoposto agli arresti domiciliari un 43enne di Sernia per spaccio di droga. L'uomo era stato infatti fermato insieme alla fidanzata mentre tornava da Castelvolturno dove era andato per rifornirsi di droga. Il fenomeno dello spaccio delle sostanze superfacenti in questa terra è purtroppo sempre più diffuso. Vogliamo tuttavia sottolineare anche con quest'altra operazione che le forze dell'ordine e la procura di Sernia sono pronte ad intervenire, le indagini continuano, ce ne sono tante in cantiere per cercare di arginare questo fenomeno che purtroppo tocca tutte le fasce sociali e trasversalmente le varie età. Con la speranza che siano i giovani a cominciare a porre un freno a questo fenomeno. E ancora nessuna traccia della 42enne Victorin Bucci dopo la sua scomparsa da Allarino, paese di residenza della donna originaria del Chad. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno continuato a scandagliare i fondali marini del porto di Termoli. Le tracce della donna si sono perse all'alba di mercoledì 18. Ancora cronaca, tartuffi venduti in nero da parte di cavatori occasionali senza il pagamento di un'alcuna imposta allo Stato. I controlli della finanza del comando di Sernia hanno portato al sequestro di circa 10 kg di tartuffo bianco e nero uncinato nei confronti di un raccoglitore socio di un'azienda agricola laziale in provincia di Frosinone. La malavita organizzata non va in vacanza, anzi i tentativi di raggiri nei riguardi degli anziani sono quotidiani. È il caso questa volta di Mirabello Sannitico, numerose le telefonate rivolte agli anziani da presunti nipoti che chiedevano loro di ricevere un pacco da un corriere per estorcere denaro. Una truffa semplice e consolidata che ha fatto finora molte vittime in regione tra le persone sole e più avanti negli anni. Lasciamo adesso l'ampia pagina di cronaca, passiamo alle vicende politiche. In aula di consiglio regionale si è parlato del tema della riorganizzazione del trasporto pubblico. parte della maggioranza di centrodestra e le opposizioni hanno messo in forte difficoltà la giunta guidata dal governatore Donato Toma. Vediamo. La notizia sta tutta in quell'11 a 10 in cui al consiglio regionale i sei consiglieri del Movimento 5 Stelle più i due del Partito Democratico più tre della maggioranza Iorio, Calente e Aida Romagnuolo hanno sbeffeggiato la maggioranza del presidente Toma e dell'assessore Niro approvando di fatto una proposta di legge emendata e sostenuta così modificata dagli 11. Dunque il governo regionale va sotto, incassa una sconfitta che racconta di uno stato di difficoltà nella coalizione del centrodestra, dove si rincorrono critiche e forti distinzioni, anche e soprattutto verso gli uomini di una giunta che non ha saputo evolversi e ascoltare le spesso adeguate e puntuali precisazioni dei singoli consiglieri, non delle opposizioni che svolgono un loro mestiere da oppositori, ma da alcune battagliere presenze in maggioranza. Critiche, spesso confluite nel voto, che fino a qualche giorno fa avevano salvato il presidente Toma e i suoi uomini in giunta e quelli più fidati, ma che oggi escono con l'onda della sconfitta. I vincitori sono loro, più che i consiglieri di opposizione del Movimento 5 Stelle del PD. Sono loro quelli che chiameremo dissidenti e che si sono vestiti di un emendamento che ha portato all'approvazione della proposta di regge appunto modificata dal voto contro Toma e Niro. Da qui le note che sottolineano lo stato di cose. Inizia il gruppo del Movimento 5 Stelle che parla della sua linea, che passa vittoriosa, della tutela dei lavoratori, dell'otto unico per l'espletamento della gara ed è la procedura aperta, in un tutto che chiede a voce alta la decisione finale che Toma e la giunta si dimettano. Anche Michela Fanelli interviene e parla letteralmente di una debacle politica che ha l'unico merito di aver impedito il pastrocchio amministrativo, lavorativo e sociale di iniziativa della giunta regionale, che dopo un anno e mezzo di proclami e il maldestro tentativo di riformare il settore del trasporto pubblico con un colpo di mano in prossimità del Natale viene malamente battuta in aula. Niente doppio lotto e niente procedura di gara ristretta. La maggioranza resta senza numeri per governare. Anche Filomena Calenta invia nelle relazioni una nota specifica. Afferma che nel presentare l'elementamento ha ascoltato le esigenze dei cittadini, quelli che non viaggiano con l'auto blu o con le automobili. La tratta ferroviaria Campopasso-Venafro si avvia verso la chiusura perché in sostituzione con convogli di nuova generazione l'interruzione provvisoria avrebbe una durata di circa otto mesi da marzo a ottobre del prossimo anno. Dall'amministrazione regionale sono sicuri che una volta terminati i lavori di ammodernamento della tratta ferrata saranno ridotti i tempi di collegamento sui binari tra il Molise e la Capitale grazie ad un parco mezzi rinnovato ed elettrico. Il Molise si torna a parlare della costruzione di centrali a biometano per via della procedura di realizzazione di un nuovo impianto di produzione nella zona industriale di Pozzilli. Ciclicamente la questione delle centrali a biometano torna ad essere oggetto di discussione dei pubblici poteri molisani. Viste da alcuni come fonti alternative ecologiche e come strutture inutili ed inquinanti da altre, queste centrali generano sempre scontri politici quando se ne paventa la costruzione. Ultima proposta in ordine temporale riguarda la zona industriale di Pozzilli dove è stata avviata una procedura per la realizzazione di uno di questi impianti di produzione. La questione è stata catalogata immediatamente come una grave minaccia per l'ambiente e per la salute dei cittadini della Piana di Menafro dalla regione. Secondo i consiglieri Massimiliano Scarabbeo ed Antonio Tedeschi infatti il progetto è da respingere per non aggravare la già preoccupante situazione del Venafrano. Quella della zona industriale di Pozzilli è l'ultima proposta in ordine temporale ma sicuramente non l'unica che interessa i cittadini molisani. Anche nella zona tra Agnone e Belmonte infatti lo spettro della costruzione di una centrale a biometano è ancora in piedi. Da tempo la questione non convince le parti direttamente chiamate in causa, cittadini in privis che non vorrebbero vedere l'opera sorgere nelle vicinanze delle loro abitazioni. A dare manforte alle popolazioni dell'Alto Molise arriva anche il no secco del consiglio comunale di Capracotta che all'unanimità respinge la nascita della centrale. Diciamo no ad un progetto che non ci convince e che servirebbe solo a dare generosi incentivi statali, ha dichiarato il sindaco di Capracotta Candido Paione, che si scaglia contro la mistificazione del linguaggio di chi utilizza il termine bio per indicare ciò che di ecologico non ha nulla. Più cauta sulla questione invece è lega ambiente molise che seppur considerando il caso specifico della centrale tra Agnone e Belmonte un progetto sovradimensionato e senza sostenibilità ambientale, ci tiene a precisare quanto, se ben realizzata, la produzione di biometano possa essere una concreta opportunità di integrazione del reddito per le aziende agricole ed un ottimo strumento in tema di vantaggi ambientali. Il centro per l'impiego di Termoli avrà una nuova e definitiva sede nell'ex caserma dei Carabinieri di via Martiri della Resistenza. I nuovi uffici nel pieno centro cittadino saranno a servizio di una vasta utenza in cerca di occupazione. Il piano terra della struttura di via Martiri della Resistenza sarà messo a disposizione del centro per l'impiego e garantirà una considerevole riduzione di spesa per le casse comunali. Sono terminati i lavori alla villa comunale di Isernia. Spazi verdi riaperti per le festività natalizie. Nuova luce per la villa comunale in pieno centro a Isernia. Terminate le opere di rifacimento e miglioramento dello spazio verde a servizio di bambini e famiglie. Potenziati giochi e pubblica illuminazione, sistemate le telecamere di videosorveglianza e rivisto l'impianto di depurazione nel laghetto interno. Lavori attesi da oltre un decennio. Questa struttura, quest'area della città non subiva interventi da ormai da un decennio, era necessario porvi rimedio e quindi sono stati predisposti una serie di lavori che hanno interessato soprattutto l'area del laghetto dove ci troviamo adesso, che è stato dotato di un moderno impianto di depurazione a sabbia, per cui adesso si presenterà in maniera sempre più bella e efficiente. È stato rivisto tutto il fondo, quindi tutto l'impianto elettrico e di depurazione è completamente nuovo. E poi tutte le aree verdi circostanti, c'è la parte a nord del laghetto con l'area giochi che è stata raddoppiata, anche grazie a un intervento, un investimento dell'Innerville che ha donato dei giochi, abbiamo potenziato anche la parte precedente e non è finita qui perché ci saranno altri interventi che riguarderanno la villa, soprattutto con il rifacimento dei viali, con la sistemazione del verde dell'area che adesso non è stata toccata dagli interventi, insomma diventerà un fiore all'occhiello della città anche con la manutenzione più dettagliata del verde stesso. credo che avremo finalmente un'area che sarà il vanto della nostra città. Ci saranno sei telecamere che saranno poste a brevissimo su quest'area della città, quindi terremo d'occhio tutto quello che riguarda gli atti di vandalismo. Noi ricordiamo che i bagni pubblici che si trovavano qui erano stati completamente vandalizzati, porte sfondate a calci, lavabo di velto, veramente era una condizione da terzo mondo. Adesso possiamo aggiungere anche un altro intervento che è stato fatto, quello della dotazione di un servizio igienico, servizio pubblico, un bagno pubblico che è autopulente, autodisinfettante. Torniamo a Termoli e nel Basso Molise dopo i fatti verificatisi in consiglio a Palazzo Sant'Antonio non si è espresso riguardo la proposta di dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre e a Montenero di Bisaccio dove invece l'assessore alla cultura di Stefano ha postato immagini e frasi inneggianti al fascismo. L'Associazione Partigiani del Molise afferma che la gestione pubblica non può essere un'azione personalistica ed essendo lo Stato repubblicano democratico e antifascista gli amministratori devono impegnarsi ad onorare le norme e a rilanciare l'azione amministrativa in un'ottica inclusiva, democratica e pluralista. Torniamo attraverso la nostra rubrica, la finestra sul cortile, dalle parti dell'ospedale Cardarelli del Capoluogo. Dalle ultime segnalazioni niente è stato fatto, parte dei parcheggi sono rimasti senza barriere di protezione, ma vediamo il contributo. Avevamo qualche tempo fa, attraverso la nostra rubrica televisiva, la finestra sul cortile, sottolineato le esigenze e la necessità di dotare alcuni parcheggi situati nei pressi del presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso di quelle barriere che sono utili, soprattutto perché eviterebbero che qualche malcapitato non riuscisse a fermare la propria auto sul bordo del posto macchina, facendola precipitare di sotto, verso la strada che collega l'ospedale prima con la Gemelli Molise, la ex cattolica, poi con un bivio per busso ed ancora con il bivio per Oratino e Campobasso. Due o tre metri di dislivello che sicuramente creerebbero problemi fisici a chi a bordo delle auto, ma anche alle stesse automobili che ne uscirebbero a pezzi. Le barriere sono da tempo cadute, rovinate al suolo e mai più ripristinate. Così torniamo a segnalare a chi di competenza il costante pericolo del luogo e chiedere per l'ennesima volta si proceda a ripristinare le barriere prima che dobbiamo lamentarci ancora una volta per la disattenzione con cui si procede nella manutenzione dei luoghi e per, speriamo di no, non aver evitato danni e dolori a qualche vittima di tale degrado. Notte di note a Baranello, circa 40 alunni dell'Istituto Comprensivo Barone, diretti dal docente di musica Peppino Natarelli, hanno eseguito all'interno della chiesa di San Michele brani della tradizione natalizia. Al termine del concerto anche una mostra a mercato con oggetti e dolci confezionati e messi in vendita per raccogliere fondi da donare in beneficenza. 33esima edizione del presepe vivente di Piedicastello a Guardi Alfier, spiritualità, arte e cultura, nei nuovi e interessanti scenari allestiti dalla Proloco nel Borgo Antico, appuntamenti nella pittoresca suggestione natalizia nelle serate del 25, 26 e 29 dicembre e ancora il 1 e 6 gennaio. Adesso come ogni giorno spazio al meteo. Gran Cenone di fine anno al ristorante Meo di Trivento per il Party 2020. Intrattenimento musica ed animazione con Danino Vinichillo a Trivento, Piana Sant'Antuono 66. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo soleggiato in gran parte del Molise, temperature odierne comprese tra i 5 gradi di Campobasso e la massima di 14 a Termoli. Ventilazione nord-occidentale, mosso il mare Adriatico. Dalla sera ampi spazi di cielo stellato sulla regione. Domattina i valori climatici sono previsti stazionali, venti settentrionali. Il cielo è previsto sostanzialmente privo di nubi. Nel girone meridionale del campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile, la Magnolia batte le romane dell'Hide School Lab 70. 39 conquista la decima vittoria qualificandosi alle fasi finali della Coppa Italia. Il successo delle Campobassane arriva grazie soprattutto ai 20 canestri della Croata Masic e alle realizzazioni di Mancinelli e Sanchez. Passiamo al calcio. Il Campobasso vince il derby contro il Vasto Girardi e si porta al quarto posto. Pareggio per l'Agnonese contro il Porto Sant'Elpidio. Vediamo assieme le grafiche. La classifica. San Nicolò Notaresco 43 punti. Matelica 34, Re Canatese 33, Campobasso 31, Monte Giorgio 30 punti, Pineto 27, Vastese 26, Olimpio Agnonese 23, Vasto Girardi 22, Fiuggi 21, Porto Sant'Elpidio Tolentino 18 punti, San Giustese, Chieti e Real Giulianova 17, Avezzano 14 punti, Jesina e Cattolica 12 punti. I Lupi vincono il derby pre-natalizio contro il Vasto Girardi grazie alla rete conclusiva nel secondo tempo di Pietro Cogliati. Con la vittoria rosso-blu sono a soli 3 punti dalla seconda piazza. Per la diciassettesima giornata di Serie D, il Campobasso è impegnato nel derby pre-natalizio contro il Vasto Girardi, una partita che gli uomini di Mister Cudini vogliono vincere assolutamente per chiudere in bellezza la prima parte del campionato. I rosso-blu partono subito con il piede giusto grazie ad una progressione di Zammarchi che ruba la palla e dà il via ad un contropiede che favorisce l'inserimento di Cogliati, ma la palla è lunga e finisce fra le braccia del portiere. La suggestione della partenza positiva è confermata quando nel giro di 30 secondi i Lupi si scatenano. Al quinto minuto un calcio di punizione consente a Pistillo di avere Lamaglio in mischia e battere guerra. Il Campobasso è subito in vantaggio. Nemmeno il tempo di festeggiare che i rosso-blu raddoppiano grazie ad un contropiede al vetriolo che consente a Zammarchi di firmare il 2-0. Al diciottesimo però il vasto Girardi rialza la testa grazie ad un calcio di rigore concesso per un intervento falloso. Sul dischetto Chiarema Teng non perdona e accorcia le distanze. Sullo scadere del primo tempo i giallazzurri dimostrano di essere tutt'altro che morti e sfruttano l'occasione di un calcio di punizione sulla fascia del campo. Alla battuta Fazio appoggia morbido per Michalowski che agguanta il pareggio. Il primo tempo lascia spazio al secondo ed anche il bel tempo e il fair play abbandonano il Selvapiana. La pioggia inizia a cadere copiosa e nel giro di pochi minuti aumenta anche la tensione in campo, confermata dai numerosi cartellini gialli in pochi minuti di gioco. Ma la seconda frazione di gioco permette ai rosso-blu di chiudere i conti, ancora una volta grazie alle gesta di Bomber Cogliati, che prende per mano la squadra e favorito da un rimpallo in area di rigore, insacca il 3-2. Quando siamo ormai alla mezz'ora è ancora una volta Cogliati a dare uno spunto, offrendo un assist al bacio a bontà, che a tu per tu con il portiere lo scavalca con un tiro raso-terra. Solo il palo salva gli uomini di farina. Il vasto Girardi le prova tutte per ragguantare il risultato. L'ultimo spunto della partita lo regala Chiere Mateng, che intercetta di testa un buon cross in aria, ma spedisce fuori. Non c'è più tempo, finisce 3-2 al Selvapiana ed il campo basso chiude in bellezza una prima parte di campionato d'assoluto protagonista. Ancora un'amnesia nel finale di partita. Poteva costare caro all'Agnonese. Alla fine solo un pareggio al Civitelle contro i marchigiani del Porto Sant'Elpidio. Natale agrodolce per Ragnonese, Porto Sant'Elpidio. Nell'Olimpia assenti, Frabotta e Barbato per infortunio, Pecic per squalifica. Al centro della difesa Ciampi con Allegra. Nell'undici di Mister Mengo, invece, in completo bianco-azzurro, il vice bomber del Girone Maio con undici sigilli all'attivo. Pomeriggio coperto al Civitelle per l'ultimo appuntamento del 2019. Il primo guizzolo portano gli ospiti sull'asse borgese Mazzieri. Maicerì è attento sul suo palo. Risposta immediata dei Granata si infila con e tra le maglie avversarie. Scarica per il movimento di Acosta. Il destro della punta argentina si spegne a fil di palo. Diarrà al tiro a metà tempo. Gagliardini non trattiene Cincischia Acosta ma non mina Cori che gonfia la rete. Tutto inutile per la segnalazione di fuorigioco degli avanti molisani. I locali viaggiano vele spiegate. Tiro cross dal mancino di Nicolao. Gagliardini messi in difficoltà dalla traiettoria. Rimedia in angolo. Il tempo si chiude con un'occasione per parte. Prima i marchigiani da una intuizione di Fermani ma scarabocchia il tiro. Cucu. Risposta dell'Olimpia dai piedi di Acosta servito nel cuore dell'area piccola. Poi cestina alto la corrente con Eda ottima posizione. All'intervallo il risultato è di 0 a 0. Episodio dubbio in area bianca azzurra da azione di rimessa laterale ad inizio di ripresa. Acosta finisce a terra dopo una cravatta troppo affettuosa di Nicolosi. Rumoreggia il pubblico di fede Granata. Al quarto d'ora Fermani non si trattiene a fondo al Teckel su Minacori in dribbling stretto all'interno dell'area. Non ha dubbi questa volta il fischietto Brindisino Orecchia. Dal dischietto Allegra è implacabile. L'Agnunese rompe gli equilibri e passa in vantaggio. Gli adriatici sono costretti ad alzare il baricentro ed accorciare i tempi. Non hanno frette i locali, reattivi nelle ripartenze. Le prova tutte è dimengo dalla panchina ospite ma senza risultati apprezzabili. Il finale è turbolento quanto inaspettato. Buco nella linea difensiva agnonese. Ruzier ne approfitta con eleganza e serve su un piatto d'argento. Maio che tutto solo castiga Mejirin è l'unica azione degna di nota dei marchigiani. I molisani sono tramortiti. Il Porto Sant'Elpidio ci crede. Ruzier semina il panico. Ciampi commette fallo col braccio largo nei sedici metri. Calcio di rigore ed espulsione per il centrale difensivo al quarantasettesimo. Dagli undici metri si presenta Maio ma Mejirin non si fa ingannare e riesce in pieno recupero a tenere in piedi i suoi per l'uno a uno conclusivo. Dopo sei minuti al Civitelle finisce in parità. Una partita rocambolesca che i locali hanno gestito male nelle ultime curve. Nei marchigiani invece si rivede la luce dopo quattro sconfitte di fila. Nel campionato di promozione l'Aurora Aururi si impone sulla Maronea e scavalca il Castello di Sangro portandosi al primo posto in classifica le grafiche. Cliternina Torre Maggiore 2 a 3, Fortore Spinete 3 a 3, Volturni a Biccari 0 a 1. La classifica. Aurora Aururi 33 punti, Castel di Sangro 32, Ala Fidelis 29, Carovilli, Trivento, Maronea e Torre Maggiore 25 punti, Ripalimosani 23, Volturni a 22, Cliternina 21, San Pietro in Valle e Donche Agnone 20 punti, Termoli 2016 19, Campomarino e Calena 18, Spinete 16, Fortore 14, Biccari 10 punti. Siamo in chiusura. Ancora un successo per il Cus Molise nel campionato di A2 di calcio a 5 che ha visto gli universitari di Marco Sanginario battere il Real Cefalu 4 a 3 approdando così ai sedicesimi di finale della Coppa Italia come migliore sesta dei tre gironi di A2. Con questa notizia è veramente tutto. Vi lasciamo alla nostra programmazione. Arrivederci. Grazie a tutti.